Cari amici del lettore medio, ritorno all'appuntamento con la nostra videorecensione. Il libro del quale parliamo oggi è quello di Manuela Costantini, Il Tavolo Blu, edito da Morellini, editore. Manuela Costantini, protagonista della nostra videointervista. Godetevi la chiacchierata. Eccoci in compagnia di Manuela Costantini, autrice di Il Tavolo Blu, edito da Morellini. Manuela, domanda d'obbligo, come è nato questo romanzo? Allora, questo romanzo è nato per una serie di suggestioni, di coincidenze. Mi piace chiamarle così. Le suggestioni che mi spingono poi a scrivere una storia, ad approfondirla ed andare avanti, e in questo caso farla diventare un romanzo. Ci sono state due o tre cose insieme. Diciamo una passeggiata nel centro storico della cittadina dove abito, una conversazione ascoltata per caso nel bar di questo centro storico, e poi la storia di una ragazza che è cresciuta in collegio. Da qui poi è nato tutto il resto, è venuto fuori tutto il resto. E anche l'incontro con un uomo in riva al mare, a cui non mi sono avvicinata, che non l'ho conosciuto, ma anche lui è entrato nella storia. Manuela, cominciamo dalla location. Tu praticamente prendi uno spazio molto piccolo all'interno del quale imprigioni, passami questo termine, ma chiaramente lo dico in maniera divertente e divertita, imprigioni i tuoi personaggi e questo spazio poi si dilata, perché diventa a tutti gli effetti questa location un contenitore di storie, e bisogna necessariamente parlare al plurale, perché una delle tante cose del tavolo blu è il fatto che comunque vi siano dei destini che si incrociano, loro malgrado, oppure perché deve andare così. Sì, hai ragione. Allora, il luogo piccolo, ristretto, dove si incontrano tutti, insomma un po' per caso, per coincidenza, ma che comunque cambierà le storie di tutti i personaggi, fondamentalmente è questo tavolo blu. Rachele ha un ristorante, ha preso da poco in gestione un ristorante, una piccola osteria con sette coperti, e decide di farli dei colori dell'arcobaleno. Questa piccola osteria si chiama Scegli un colore. E il tavolo blu è il tavolo a cui decide di sedersi Mirna, un'altra delle protagoniste di questa storia, quando entra per la prima volta in questo romanzo. Ne Mirna, ne Rachele ovviamente possono immaginare che questo incontro cambierà le loro vite per sempre. E questo ristorante, diciamo, come hai ragione, fa da punto di incontro di tutti i personaggi, tutti entreranno in questo ristorante e avranno a che fare con lo stessa, come viene chiamata Rachele in questa piccola cittadina sul mare. Insieme un altro scenario importantissimo, secondo me, perché questo ristorante proprio sul mare è esattamente il mare, che è un altro scorcio importante in cui tutti i personaggi comunque andranno. Il mare mi fa pensare a Ulisse, mi fa pensare al suo ritorno ad Itaca. I tuoi personaggi, volente o nolente, sono alla ricerca della loro Itaca e soprattutto sono alla ricerca del loro passato, una sorta di trampolino verso il futuro. Ti chiedo se questa mia riflessione a voce alta è condivisibile oppure no. È molto condivisibile. Tieni conto che una citazione all'inizio del romanzo è tratta da un saggio di Massimo Recalcati che parla proprio di Ulisse. Dice qualcosa... Tutti quanti abbiamo guardato il mare aspettando che qualcosa da lì tornasse e qualcosa torna sempre dal mare. Nel caso di Ulisse lui torna dal mare, parte prendendo mare da Itaca e poi torna Itaca sempre dal mare, Itaca è un'isola. Diciamo che questo mare è un personaggio importante del romanzo che accompagna, non so, mi viene in mente il dolore, ma anche le domande, le risposte che cercano tutti i personaggi e comunque dà in qualche modo una sorta di supporto, una sorta di conforto a tutti loro. È vero, hai ragione, qualcosa per tutti torna anche dal mare, effettivamente. È proprio così. Manuela, uno degli hashtag che potremmo utilizzare per raccontare il tuo libro è senza dubbio la parola assenza. Assenza con la quale si impara a condividere, assenza talvolta di una persona, a volte anche semplicemente di un sogno o di un qualcosa che rappresenta la quotidianità. Che valore ha per te questa parola e che valore ha all'interno della tua storia? L'assenza è molto importante, ma ci sono assenze abitate. In questo romanzo ci sono alcune assenze abitate, ci sono alcune assenze invece che provocano rabbia, provocano grande dolore. L'assenza definitiva, per esempio, è data dalla morte di un'altra, delle protagoniste di questa storia. Quella è l'assenza definitiva, che poi in realtà non è proprio così. Io leggo all'assenza l'attesa. Per me hanno ruoli molto importanti entrambe queste parole. Ci sono assenze che richiedono proprio l'attesa, nella speranza che la persona che stai attendendo torni. Nel momento in cui si prende coscienza che è meglio non aspettare più, diciamo che in qualche modo ci si salva. Quindi c'è l'attesa, c'è l'assenza. Diciamo anche in questo, in tutti i personaggi. Sono un pochino personaggi pieni, a tutto tondo. Ognuno di loro ha anche queste belle considerazioni che tu mi stai facendo. Ognuno di loro sente un'assenza, ognuno di loro aspetta qualcosa, aspetta una soluzione, aspetta la felicità probabilmente. aspetta la gioia, o aspetta di fare una scelta definitiva, non sempre facile, ma che poi li porterà a cambiare in qualche modo. Insieme all'attesa c'è anche l'assenza, no? Chi rincorre l'amore, chi rincorre la decisione altrui, chi rincorre, chi vuole trovare qualcosa. L'assenza è anche la ricerca di qualcosa. E io spero di essere riuscita a chiudere i cerchi un pochino di tutti. Non sempre benissimo, ma comunque si chiudono tutti, diciamo così. Assolutamente. Tra l'altro aggiungo, questa è una riflessione a voce alta, Manuela, che tu scrivi di donne, scrivi innanzitutto per un pubblico femminile, ma non sono, perché appunto invito gli uomini poi a leggere questo libro e a trovare le suggestioni differenti da quelle che proveranno le lettrici. Un'ultima domanda. Il libro ormai non appartiene più a te, ma appartiene a noi, inteso come comunità di lettori. Cosa ti ha lasciato come eredità questa esperienza editoriale? Allora, mi ha lasciato un'eredità bellissima, perché intanto anche i lettori hanno trovato cose che io non... ci ho pensato dopo, quando me le hanno fatto notare loro. È successo molte volte che alcuni lettori mi abbiano detto delle cose, suggestioni, come dicevi appunto, che hanno trovato, a cui io in realtà non avevo realmente pensato. Ne cito una fra tutte, che è una visione molto bella, secondo me. Il romanzo ha dato a questo lettore uomo, quindi come dicevi tu anch'io, invito gli uomini a leggerlo e a farmi sapere cosa ne pensano. Ha detto che ha trovato in questo romanzo una speranza contemporanea, nel senso che una frase molto ripetuta nel romanzo è «Ci si salva da soli». E lui mi ha detto che soprattutto in questo momento della nostra società, in cui siamo forse un po' più soli di qualche tempo fa, perché i social aiutano sicuramente, ma aumentano in qualche modo la solitudine fisica, diciamo così. Questo romanzo dice «Ok, ci si salva da soli», ma poi invece tutto il romanzo è al contrario, perché si chiedono aiuto e si aiutano fra di loro e quindi ci si salva insieme. Assolutamente. Quanto mai è necessario un gioco di squadra e è un gioco di squadra anche il tuo romanzo, cara Manuela Costantini. Ricordiamo, vi invito a leggere il suo libro «Il tavolo blu» edito da Morellini, la videorecensione termina qui. Cara Manuela, in bocca al lupo per questa tua nuova avventura editoriale. Grazie mille e vivano tutti. Ci vediamo alla prossima videorecensione.